Buongiorno a tutti e benvenuti a Lontani ma Vicini. Oggi è il 15 dicembre e insieme a me in studio ho un ospite graditissimo. Allora dunque ve lo vado subito a introdurre. Intanto per cominciare vi dico che rappresenta Renault da una vita intera. Generazioni e generazioni di Renault si addensano su lui e sulla madre naturalmente donata eccetera. Io direi che se l'inquadratura ora ce lo fa vedere vi presento appunto con i chiami di nome Simone Conti. Simone oggi è qui perché oltre alla tradizionale amicizia con Canale 3 che la concessionaria Pampaloni storicamente ha è anche qui per una questione piacevole nel senso è a raccontarci di una bellissima novità che potremo trovare presso la loro concessionaria da questi giorni in poi. Qual è questa grande novità che andremo a incontrare? È la nuova Twingo elettrica. Allora intanto per cominciare io vorrei introdurre un argomento. Questo è il tempo della mobilità elettrica in qualche maniera. Stiamo iniziando a avere un forte cambiamento intellettuale che ci porterà nei prossimi 5-6 anni verso questo tipo di vetture. noi tutti guideremo vetture elettriche. Niente, il Renault è partita da un'esperienza di mobilità elettrica praticamente da subito, fin da quasi una decina d'anni. Sì, allora la nostra esperienza nel mondo delle veicole elettriche è iniziata nel 2011 quando in massa tutti i componenti commerciali della Renault Italia siamo andati a effettuare una formazione in Spagna e Renault Europa ci ha presentato i nuovi progetti di veicoli elettrici. I primi veicoli elettrici che abbiamo visti sono stati la Zoe che è ancora protagonista nei nostri saloni, la Renault Fluance che era una berlina a quattro porte completamente elettrica anche questa e un quadriciclo elettrico era Twizy. Abbiamo intrapreso questa strada nel mondo dell'elettrico puro, cioè Renault è entrata in questo mercato sposando la teoria dell'elettrico vero, cioè non del librido o del plug-in. Nel 2011 abbiamo cominciato con dei piccolissimi numeri a commercializzare queste vetture. La gamma si è sviluppata. Anche l'esperienza Renault è andata in avanti? Certo, l'esperienza Renault è andata in avanti, la gamma si è sviluppata e oggi siamo a parlare di un altro prodotto completamente elettrico che è la nuova Twingo che è un brand storico per quanto riguarda Renault. Mi pare più di 20 anni, 28 anni di Twingo, mi pare ricordare la prima forse all'inizio degli anni 90 addirittura. Allora, la prima Twingo era un modello molto di rottura, particolarissimo, uscita il 1993 e il modello attuale praticamente è stato rivisto, è stato creato con un concetto di 5 porti è una macchina, chiaramente city car e alla versione termica da pochi giorni si è affiancato il motore completamente elettrico. Ecco, allora, tieni il microfono un po' più alto, perché se no si perdono un po' le parole per strada, d'accordo? Allora, invece, al contrario, parlando sempre di Twingo, anche per lì si ha la forma, perché è una macchinina, io sono stato il concessionario a vederla, è una cosa deliziosa, adattissima a questi tempi di oggi, già è una city car veramente brillante e giovanile, d'accordo? Allora, quali sono le caratteristiche di questa macchinina elettrica che state proponendo? Allora, la caratteristica principale è che è una vettura molto adatta per un ciclo urbano, le dimensioni e il fatto che la macchina sia prodotta ad una trazione posteriore praticamente hanno fatto sì che abbia un raggio di sterzata impareggiabile per quanto riguarda la categoria. È molto maneggevole, molto spaziosa anche e chiaramente con il discorso delle zero emissioni della vettura della mobilità elettrica è anche molto vantaggiosa per quanto riguarda oggi il poter girare anche in dei centri urbani. Certamente, e i punti di forza di questa macchina quali sono? Esattamente. I punti di forza sono appunto questi, ecco, le dimensioni e il fatto che sia una vettura connessa, una macchina giovanile e aggiungeremo il punto di forza anche il fatto che è prodotta sia in motorizzazione elettrica e anche motorizzazione termica. Sì, sì, in tutte e due le versioni naturalmente. In tutte e due le versioni perché Zoe è solamente elettrica, invece Twingo è una versione elettrica che si affianca alla versione elettrica. Allora, a proposito di Zoe bisogna aggiungere, come dire, per andare a fare un quadro compiuto di Renault è la macchina elettrica più venduta in Europa in questo frangente. Allora, la Zoe nell'anno 2020 ha raggiunto al 30 di novembre circa 95.000 ammatiolazioni leader sul mercato dell'elettro a livello europeo e chiaramente anche italiano. Twingo, che abbiamo iniziato a prendere la presa ordini circa un mesetto fa, ci sta dando grosse soddisfazioni perché il pubblico nostro, il cliente italiano e il cliente locale di Siena e provincia sta rispondendo in maniera abbastanza ok a questo tipo di proposta. Io stavo facendo proprio una riflessione inerente a chi lavora e fa il pendolare, per esempio te per esempio sei un soggetto adeguato perché abiti a Poggi Bonzi, vieni a Siena due volte al giorno, ti muovi, ti sposti e quindi è un tragitto che sta nelle corde della Twingo elettrica in questo caso. Sì perché praticamente l'utilizzo è definito, io faccio 35 chilometri per raggiungere il posto di lavoro e 35 chilometri chiaramente per tornare a casa, quindi ecco la Twingo elettrica è l'ideale per me perché non impatta sui consumi di niente perché chiaramente con una ricarica vado e quindi non ho problemi. Il fatto della ricarica, tra l'altro la Twingo ci dà, io ho guardato in foto ma ci dà numerose opzioni in questo caso, addirittura ci dà tre opzioni di ricarica differenti con tanti tipi di guida differenti ma soprattutto anche ricarichi molto veloci volendo laddove ci sia una necessità in tre ore, tre ore e mezzo si riesce dalla colonnina con il fast charger cioè con la ricarica veloce a arrivare a un pieno. Quindi significa che è già una macchina moderna sul profilo della ricarica delle batterie. Per una macchina a batterie oggi questo termine è importantissimo anche perché molte persone che si avvicinano all'elettrico secondo me a livello psicologico hanno la necessità di riflettere su questo tema come la ricarico, quanto costa questa ricarica? Questi sono temi fondamentali. La batteria da 22 kW è una ricarica molto veloce e soprattutto diciamo che Twingo si differenzia da Zoe nel fatto che Zoe si ricarica solo alla colonnina mentre Twingo è dotata di presa domestica quindi chiunque ha un garage attacca la colonnina, attacca e ricarica l'utilizzo in pratica. Noi consigliamo in fase proprio di trattativa e di vendita di ricaricare l'utilizzo cioè il cliente non scarica mai tutta la batteria e non carica mai in totale la batteria ma con la presa domestica ricarica l'utilizzo. Nel caso mio, nell'esempio mio, sono 70 km e quindi è molto pratico. Offrite anche la wallbox, la wallbox sarebbe una presa straordinaria per la casa da aggiungere. Sì, da aggiungere per ricaricare con la ricarica non domestica oppure la colonnina. Esatto. Allora dunque un altro dei fattori che secondo me implica qualche problematica intellettuale a chi si accinge a dover prendere la macchina elettrica ma poi queste batterie quanto dureranno. Nel senso, se io carico la batteria, intanto per cominciare, io credo che Renault ci dia già un'autonomia per intorno a 200 km in un percorso misto. Quindi se uno fa come te, per esempio, due o tre giorni sicuramente senza dover ricaricare ci dia. Sì, sì, c'è una vita definita, diciamo, le vetture elettriche oggi per chi ha una vita molto definita chiaramente non è consigliato per un agente di commercio che deve percorrere lunghe tratte, però con una ricarica alla settimana che fa un raggio di 20-25 km al giorno. Sto pensando anche alle signore che vanno a fare la spesa al supermercato, si ritrovano magari con le colonnine del supermercato a disposizione, colgono l'occasione di fare una ricarica mentre loro sanno fare la spesa, un'ora, due ore di fermo e già hai una macchina che ha un'altra autonomia differente a disposizione sempre. Certo, si ricaricano l'utilizzo praticamente perché oggi tutti i centri commerciali a Siena ma anche in provincia sono dotati di questa possibilità, quindi il cliente è molto comodo, parcheggia e ricarica la vettura. Un altro dei quesiti che si pone alla gente è quanto costa riparare una macchina elettrica? Perché le domande cominciano ad essere tante, no ora? La riparazione, la manutenzione diciamo di una vettura elettrica rispetto diciamo alla vettura termica chiaramente non si devono fare tagliandi, non c'è cambio olio, non c'è l'unico materiale che può essere usurato sono le gomme e le pasticche dei freni, per il resto poi non c'è manutenzione ordinaria diciamo. E quindi questo è uno dei punti fermi a grande vantaggio dell'utilizzo del mezzo elettrico, il mezzo a batterie di fatto non ha delle problematiche di motore da dover per forza riguardare come noi siamo abituati mentalmente a fare con la macchina a cilutermico. Certo, praticamente la manutenzione ordinaria di fatto scompare, non necessita di manutenzione. E tra l'altro della macchina elettrica si può dire anche che c'è per esempio questa macchina qui, il Renault Twingo, lo 0,50 all'ora è molto significativo, cioè che è poi quella velocità in accelerazione che serve nel circuito urbano, di fatto semaforo, ripartenza e via di seguito. Sì, la macchina elettrica a livello di prestazioni come prontezza, come scatto è superiore alla macchina subito pronta, non ha diciamo leg di turbo, di motori, parte e va. Nella enorme curiosità che mi sono posto, ho guardato tante prove di tante macchine elettrici differenti messe in accelerazione con le macchine termiche, la macchina termica riesce ad arrivare solo dopo al chilometro di fatto, alla stessa velocità dell'elettrica, perché l'elettrica pronti via è immediata. Infatti quando noi siamo partiti circa dieci anni fa, i primi clienti che sono montati a bordo della vettura elettrica, hanno fatto questa esperienza di test drive, sono rimasti piacevolmente colpiti proprio dalla prestazione, dalla brillantezza e dallo spunto della vettura, oltre chiaramente alla rumorosità che era pressoché zero. Com'è personalizzabile questa macchina? La nuova Twingo è una vettura che può essere personalizzabile, ci sono vari colori, ci sono tre livelli di allestimento sulla Twingo ZE, sulla Twingo elettrica, sono una versione d'ingresso che si chiama Zen, la Intense e poi una 6 limitata che si chiama Vibe. si possono aggiungere degli stripping, si può personalizzare gli interni a seconda diciamo del piacere. In frattempo noi stiamo parlando, stanno scorrendo diversi video che noi abbiamo preparato per questa nostra chiacchierata. per esempio, ha visto questa dizione che è passata ora, la nuova Twingo è super connessa, allora che significato ha questo per esempio? Cioè per una clientela giovane è chiaro? Sì, allora è chiaro che essendo super connessa è abbinabile a tutti i tipi di smartphone e a tutte le sincronizzazioni che si possano fare con supporti ETHEC, però la caratteristica principale è che sullo schermo centrale della vettura dove compaiono tutte le funzioni c'è anche la mappa di tutte le colonnine di ricarica e quindi il cliente che si mette in marcia con la vettura elettrica praticamente sa dove potrà arrivare e dove dovrà ricaricare la vettura. Perché questo è un altro dei quesiti che si pone sicuramente il cliente che si avventura verso l'acquisto della macchina elettrica, ma se io sono per strada anche in città d'accordo e non so dove è posizionata la colonnina, come faccio io poi dopo se ho bisogno a dover ripristinare la carica? Ecco che la macchina ti viene l'aiuto. Tutte le vetture attuali sono di grande supporto al guidatore tramite questi supporti diciamo digitali, tecnologici e nel caso dell'elettro diventa fondamentale sapere dove è la possibilità di ricarica e è molto chiaro, insomma è un sistema che avverte, si sa, si conosce, il cliente utilizza la vettura in maniera serena anche per questo motivo. Ecco, fra questi video, non so ora la scaletta che il tuo addetto marketing ci ha portato dei video, ma insomma li stiamo mandando un po' al loop e ora vediamo la ricarica a questo punto. Ecco, la ricarica ce la fa vedere, era quella cosa che dicevamo prima, la ricarica veloce è molto significativo. e quindi avventurarsi non è più un'avventura, ma diciamo che di fatto è guidare in sicurezza tutti i giorni. No, non è più un'avventura perché a parte le prime autonomie si parlava di 60-80 km, adesso siamo serenamente intorno a 200 km ma le infrastrutture sono cresciute rispetto a 10 anni fa, ci sono colonnine, ci sono… però diciamo la vera forza della vettura secondo noi è la possibilità della ricarica domestica. Questa è una macchina che si autoricarica anche? Allora, c'è una funzione sul cambio automatico che si chiama B-Mod con la quale funziona quando la vettura effettua la frenata o la decelerazione automaticamente ricarica la batteria. quindi se durante un test drive una persona tiene d'occhio la clessidra dell'autonomia se va in discesa con il B-Mod l'autonomia sale, quindi si autoricarica chiaramente con la discesa, con la frenata o con la decelerazione. Come si stacca il piede dal pedale dell'acceleratore automaticamente si ricarica. chiaramente quando si affronta una salita la clessidra della ricarica va giù. Dopo una salita ci sono sempre le discese, sicché… Va bene, allora facciamo passare ora l'intervento pubblicitario, pubblicità e poi ci risentiamo di nuovo. Grazie. Allora, torniamo a discutere con Simone Conti della Twingo elettrica per andare un po' a fare il punto su questa macchina che è così particolare, così bellina. Qual è il target? Quali sono i clienti a cui si riferisce Renault per questa macchina? Secondo me è ben identificata la clientela. La clientela è sicuramente una famiglia giovane, il giovane in generale. Uomo, donna, tutte e due. Uomo, donna, tutte e due, una macchina trasversale proprio per il motivo principale che è elettrica e una seconda auto con un utilizzo ben definito. Esatto. E se un giovane volesse, che ne so, avere un infotainment alla moda, all'avanguardia, c'è dentro quella macchina? Cosa? Un infotainment come va di moda ora, cioè questi grandi quadri elettronici che ti portano a qualsiasi tipo di informazione, al navigatore… Sì, sì, no, certo, prima quando un cliente si metteva a sedere toccava lo sterzo della macchina, ora no, c'è lo schermo centrale che appunto dà tutte queste informazioni che si può cambiare colore, si può cambiare anche il display, insomma c'ha diverse funzioni. È prettamente un prodotto giovanile, ecco secondo noi è un prodotto molto giovanile. I giovani sono abituati a avere a che fare con gli schermi, per cui lo schermo di fatto diventa per loro così semplice nella gestione… E' semplicissimo perché c'ha comandi al volante, comandi touch e comandi vocali. Eccoci, e fra tutti questi comandi ci sono anche tutti i sistemi contemporanei di sicurezza. Certo, c'è tutta la sicurezza… Assistenza a paccheggio, telecamera posteriore, tutto. Tutto, questa versione viene, diciamo il modello base di questa versione è già ampiamente accessoriata, poi c'è una versione più rifinita è la Intense e poi c'è la Vibe che è una serie limitata ma che ha veramente tutto, quindi ecco non esiste modello base e sono altamente tecnologiche. Allora, dunque noi siamo arrivati un po' alla fine di questa bella chiacchierata, l'abbiamo fatto insieme, vogliamo vedere… te hai venduto una macchina e abbiamo fatto anche un video a chi l'ha comprato. Allora, io vorrei fare un appello perché bisogna bisogna, faccio anche il mio lavoro. Allora, sono rimasti pochissimi giorni per approfittare degli econcentivi, il portale diciamo sulla quale si definiscano questi econcentivi sta piano piano diminuendo, quindi ecco sono gli ultimi giorni e consiglio a chi è interessato di acquistare un'auto elettrica di accelerare la decisione perché oggi… Quanto costa, scusami, di vestito questo? Allora, una Twingo, diciamo un allestimento medio va intorno a 23 mila euro ma con gli econcentivi e con le offerte che ci sono oggi con 12, 12 e mezzo, 12 mila e 500 euro si acquista una Twingo completamente elettrica, quindi va praticamente a annullare i gap fra la versione termica e la versione elettrica si paga quanto la versione termica proprio grazie agli econcentivi e quindi… Allora, prestate tanta attenzione per i signori che siete a casa e che ascoltate questa nostra intervista all'ottima vicini con Simone Conti, concessionaria Pampaloni, andate presso la concessionaria a Siena, in via Massetana Romana e a Poggi Bonzi in via San Gimignano dove già i nostri clienti però stanno venendo per le vetture elettri, quindi siamo molto molto eccitati e contenti diciamo di questa cosa, siamo tutti felici di questa cosa, allora dunque andate a vedere la macchina Twingo ma non solo, anche provare, anche provare e provatela e vedrete che con 12 mila euro circa portate a casa un mezzo eccezionale vi farà risparmiare, vi farà fare bene tutto il trasporto ordinario di cose e persone nel quotidiano, nel tratto quotidiano che fate ogni giorno, vi farà sentire più felici perché non avete dato impatto come dire né acustico perché la macchina... Se vuol dire inquinamento acustico zero e inquinamento veramente classico zero. Allora vogliamo vedere questa prova su strada che ha fatto questo tuo cliente che ha comprato una macchina peraltro... Ah questo è un cliente, un amico fra l'altro, che ha acquistato la Twingo elettrica e ha regalato, diciamo, ci ha regalato questo splendido filmato. Vediamolo, vediamolo insieme, sono molto curioso. Oggi spero seguiate il mio video, vi faccio vedere la Twingo elettrica che al momento è la macchina più economica elettrica che ci sia in circolazione e ve lo spiegherò ovviamente in questo video. Il listino ufficiale della Twingo parte da 22.450 euro ma tra incentivi rottamazione si arriva ad un prezzo vero di 11.500 euro. Si carica dalla presa standard del garage, non abbiamo bisogno di sostenere un canone per il noleggio della batteria e lo vedremo. Questa Twingo che vedete qui alle mie spalle si può caricare in trifase fino a 22 kilowatt e in pratica serve mezz'ora per immettere l'energia necessaria per fare 80 chilometri in strada. Ha un'autonomia non elevata, infatti con batterie piene, arriva circa a 190 chilometri. La cosa che mi piace tantissimo è che Twingo ZE, così è chiamata, si ricarica fino a 4 volte più velocemente delle auto concorrenti nelle stazioni di ricarica più diffuse nelle aree pubbliche. Ha un motore da 60 kilowatt e la sua velocità massima che può di fatto raggiungere è di 135 km orari. La batteria, come detto, è da 22 kilowatt di capacità, ha un'autonomia media quando si viaggia con lei di 225 chilometri con velocità ovviamente limitate. All'interno dell'abitacolo c'è un touchscreen a colori da 7 pollici che consente di accedere alla nuova connettività della piccola macchina elettrica della Renault. L'ambiente interno c'è di diverse soluzioni personalizzabili che stabiliscono il colore del profilo ovviamente della plancia, degli areatori e degli inserti del volante. Lei con gli incentivi e avendo una macchina da poter rottamare è davvero una vettura da tenere in super considerazione perché io lo sto provando, si guida benissimo, è piacevolissima la guida e di conseguenza, che dire, la ritengo interessantissima. Ringrazio la concessionaria Pampaloni Renault di Poggio Monzi e Siena per avermi concesso l'uso per alcuni giorni di questa vettura che vi ho potuto raccontare nel canale sperando di aver fatto ovviamente una cosa gradita. Ciao a tutti da Big Net e dalla Twingo elettrica che secondo me è tanta tanta roba. Ciao a tutti! Mi stava dicendo Simone in questo frangente che questo signore ha detto ma quanto l'ha pagata questa macchina lui alla fine che è quella completamente accessoriata con gli incentivi? Allora mi sembra, ora chiaramente non ho gli strumenti, insomma 13,9, l'allestimento top con la possibilità di ricarica domestica. Eccoci, mi sembra che sia... dovete tenere di conto di quello che si è detto prima, non c'è manutenzione, l'energia elettrica, se mettete per esempio l'energia elettrica ai centri commerciali non la pagate perché è gratis, cioè queste sono cose che sono fondamentali da comprendere perché se non si capisce che queste macchine sono un risparmio assoluto anche se spendi mille euro in più all'inizio potete ritrovare nel corso giornale che nei primi sei mesi ha già risparmiato l'ira di Dio per cui è incredibile, impatto zero, risparmio assoluto, ma che volete di più? Infatti ci è parlato di paragoni perché non esiste praticamente oggi l'elettrico a questo prezzo grazie agli concettivi è impareggiabile come confronto rispetto ai temi. Assolutamente. Bene, allora io ringrazio Simone Conti, concessionaria, però ricordiamo via Massetana Romana e Poggibonzi via... Allora, Poggibonzi via San Gimignano e Siena via Massetana Romana. Andate a trovarvi in concessionaria perché vi faranno vedere questa macchina eccezionaria ma anche tutte le altre che hanno dentro. Ci vediamo la prossima settimana di nuovo perché abbiamo un secondo appuntamento dove andremo a vedere anche l'altro marchio che voi vendete che è Dasha. Parleremo di Dasha, sì. Va bene, grazie. Allora se c'è la pubblicità, intervento pubblicitario ora.